Bene, con questa video lezione proseguiamo lo studio del monopolio e nello specifico, dopo aver visto a livello teorico quali sono le caratteristiche del monopolio nel primo video, dopo aver visto nel secondo video domanda e ricavo marginale, in questo video andiamo ad esaminare l'equilibrio del mercato e i surplus del consumatore e del produttore. Proprio per questo motivo, perché stiamo al terzo video e i video in qualche modo sono pubblicati in successione, vi consiglio di rivedere sia il primo o di vedere il primo e il secondo per avere le nozioni utili per arrivare a questo terzo video. Quindi anche in monopolio, come abbiamo visto in concorrenza perfetta, la condizione di equilibrio è data da ricavo marginale uguale costo marginale, che è la condizione che permette all'impresa di massimizzare il profitto. Quindi anche il monopolista porrà ricavo marginale uguale costo marginale. La prima differenza rispetto alla concorrenza perfetta è questa, e cioè che in monopolio non abbiamo che il prezzo è uguale al ricavo marginale, ma in monopolio il prezzo è diverso dal ricavo marginale. Mentre in concorrenza P è uguale al ricavo marginale, e quindi avevamo P uguale al ricavo marginale uguale costo marginale. Ma quello è un mercato particolare, come è particolare il monopolio? Il monopolio appunto, ve lo ripeto una terza volta, ricavo marginale è diverso dal prezzo, e quindi dovremo imporre come primo step ricavo marginale uguale costo marginale. Andiamo a riprodurre domanda e ricavo marginale, che avevamo già visto nel video precedente, e appunto perché in monopolio domanda e ricavo marginale sono due rette diverse. La domanda ci permette di individuare il prezzo, per questo motivo prezzo che è sulla domanda è diverso dal ricavo marginale. La spiegazione appunto è stata fatta nel secondo video sul monopolio. Per arrivare a determinare l'equilibrio dobbiamo disegnare l'offerta, che come è spiegato anche in altri, nel mercato di concorrenza perfetta, è il costo marginale, è assunto uguale al costo marginale. Quindi adesso nel grafico che abbiamo appena visto, dove c'erano domanda e ricavo marginale, tracceremo anche il costo marginale per arrivare a capire come trovare la quantità e il prezzo di equilibrio nel monopolio. Ancora una volta, domanda e ricavo marginale. Il primo punto è quello di trovare l'eguaglianza tra ricavo marginale e costo marginale. Quindi tracciamo il costo marginale, il punto di intersezione tra ricavo marginale e costo marginale, e il punto di massimizzazione per il monopolista. Da questo punto, arriviamo allo step successivo, scendiamo, diciamo così, sull'asse delle quantità, quindi l'asse orizzontale, per trovare la quantità che il monopolista andrà a produrre. Quindi la quantità che in questo mercato sarà prodotta, Q con M. Attenzione adesso, quindi ci manca il prezzo di equilibrio. Per trovare il prezzo di equilibrio dobbiamo ricordarci che il prezzo è definito dalla domanda, non dal ricavo marginale. E quindi cosa dovremo fare? Come quarto punto, dovremo risalire dal punto di intersezione verso la domanda. In questo modo, poi andando sull'asse verticale, troveremo il prezzo di mercato. Quindi, se per individuare la quantità dobbiamo trovare l'intersezione tra ricavo marginale e costo marginale, per trovare il prezzo di equilibrio di questo mercato dobbiamo risalire sulla domanda e quindi puoi trovare il corrispondente valore sull'asse verticale. Quindi questa è la differenza fondamentale rispetto al mercato della concorrenza perfetta, perché lì avevamo domanda e ricavo marginale uguali, erano la stessa retta, mentre qui abbiamo due rette. Quindi ricordiamoci, ripeto ancora una volta, per trovare prezzo e quantità di monopolio dobbiamo lavorare in due step. Il primo step è quello che ci individua la quantità e la troviamo dopo aver trovato l'intersezione fra costo marginale e ricavo marginale ed essere scesi sull'asse orizzontale, l'asse delle quantità. Dopodiché risaliamo sulla domanda e da lì andiamo ad individuare sull'asse verticale il prezzo di equilibrio, il prezzo del mercato del monopolio. Trovato l'equilibrio, quindi abbiamo determinato le quantità prodotte e il prezzo a cui queste quantità vengono scambiate, possiamo determinare il surplus del produttore, in questo caso il nostro produttore 1, il monopolista, e il surplus del consumatore. Questa è la situazione della slide precedente con, ripeto ancora una volta, domanda e ricavo marginale e costo marginale. abbiamo individuato l'intersezione fra costo marginale e ricavo marginale, che è il punto di ottimizzazione del monopolista, così come anche delle altre imprese, però in questo caso noi ci stiamo occupando del monopolio. Da quel punto siamo scesi in basso per individuare la quantità prodotta e siamo risaliti fino a trovare il punto di contatto con la domanda per poi determinare il prezzo di mercato. Ebbene, quell'area che vedete adesso evidenziata in verde, cioè l'area che va dal prezzo di mercato, quel triangolo, dal prezzo di mercato fino alla domanda, quindi fino ai prezzi di riserva dei consumatori, quell'area appunto è il surplus del consumatore. Quindi, ripetiamo, il triangolo che ha come lati l'asse verticale, il prezzo e la domanda ci individua il surplus del consumatore. Invece, per trovare il surplus del produttore, cioè del monopolista, dobbiamo considerare l'area al di sotto del prezzo di mercato fino al costo marginale, che altro non è se non l'offerta del monopolista. Quindi, l'area che vedete adesso evidenziata in giallo è il trapezio e il surplus del nostro monopolista. Già da questo grafico capite come il surplus del monopolista sia maggiore rispetto a quello dei consumatori, proprio perché in questo mercato la forza del potere di mercato del monopolista permette a questo di assicurarsi più surplus rispetto a quello dei consumatori. E poi vedremo anche in un altro video la differenza tra questo equilibrio e questa suddivisione di surplus tra consumatori e produttori e l'equilibrio e la divisione di surplus nel caso della concorrenza perfetta. e quindi andremo a vedere se il benessere sociale è migliore, maggiore in concorrenza o in monopolio, vedremo quant'è la perdita e altri punti importanti che di solito vengono spiegati negli esami di microeconomia. quindi questo è l'equilibrio e abbiamo individuato anche i surplus delle due parti in gioco del consumatore e del produttore. Quindi riassumendo, per determinare l'equilibrio in monopolio si parte dalla condizione di massimizzazione del profitto e cioè ricavo marginale uguale costo marginale. Tuttavia questo incontro tra ricavo marginale e costo marginale non è sufficiente perché l'incontro tra ricavi marginali e costi marginali e quindi la definizione del punto di intersezione ci permette di trovare la quantità nel mercato di monopolio. Però per poi trovare il prezzo, come abbiamo visto, dobbiamo risalire fin sulla domanda e poi dalla domanda andiamo sull'asse verticale e andiamo ad individuare il prezzo. Quindi ricordiamoci, dobbiamo avere domanda, ricavo marginale e costo marginale dopodiché una volta individuato con questo processo costo marginale uguale ricavo marginale e poi essere risalito sulla domanda abbiamo individuato quantità e prezzi e quindi step finale possiamo individuare le aree del surplus del consumatore e del surplus del monopolista, del produttore e abbiamo visto già che il surplus del monopolista è maggiore rispetto a quello del consumatore. Già questa è una caratteristica interessante del monopolio però come vi dicevo poco fa affronterò in un altro video il confronto tra monopolio e concorrenza perfetta e quindi in un altro video vedremo sia le differenze in termini di prezzo che di quantità fra i due mercati sia le differenze in termini di distribuzione e quantità di surplus tra consumatore e produttore e di surplus complessivo del mercato tra appunto concorrenza e monopolio quindi spero che il video vi abbia spiegato meglio o vi abbia in qualche modo fatto capire come trovare l'equilibrio nel mercato monopolistico se vi è stato utile potete lasciare un like se avete dei dubbi potete scriverli nei commenti così come anche se avete delle richieste particolari e quindi vi ringrazio ovviamente per aver visto il video e vi ricordo per sostendere il canale potete iscrivervi attivando la campanella per ricevere gli aggiornamenti così come potete seguire la pagina facebook il faro dell'economia per avere altre informazioni di economia e finanza e io vi rimando al prossimo video del canale